Il 5 settembre di 11 anni fa fu assassinato Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica. Chi l'ha ucciso ancora non si sa, continuano quindi le manifestazioni sia per ricordare il primo cittadino, sia per chiedere giustizia. Lo ha anche ricordato il sindaco di Pollica Pisani. Intanto è stato anche installato ieri ad Acciaroli un monumento digitale in realtà aumentata in ricordo del compianto sindaco pescatore. L'opera è stata donata al comune di Pollica dal cilentano Marco del Sorbo, social media manager e digital strategist che si propone attraverso la realizzazione di progetti di innovazione digitale di incrementare l'iniziativa a sostegno della cultura del territorio. Per visualizzare il monumento digitale sarà necessario recarsi nel borgo marinario di Acciaroli e puntare la fotocamera del cellulare su un QR code applicato su un'apposita installazione in un punto preciso della scogliera di Acciaroli, uno dei tanti modi per ricordare il sindaco pescatore che ricordiamo ha 11 anni e il suo atroce a Sessinio non ha ancora giustizia per questo va ricordato ma anche per tutte le sue geste, per l'amore per il suo territorio.